poi che devi dire in questa puntata benvenuti in questa puntata allora amici in questo video sono con Martina e con Dante e stiamo facendo un unboxing epico di queste snowdown capsule credo si chiamino e adesso con Dante e Martina appunto andremo a aprire e niente mi spiace che lo prenderemo come video extra chiaramente perché sarà un po' un macello adesso vediamo quali personaggine sono Dante vuoi cliccare tu con il mouse? si allora aspetta spostiamo un attimino questo vai quando vuoi devi cliccare con il mouse voglio vai quando vuoi tu no con questo qua questa qua no sta cliccando la rotellina amore questo qui qua qua nero qua nero ok così ok ti piace questo personaggine? si si chiama Ari altra volta si poi vediamo cos'altro è uscito Trindamer non ci interessa molto oh questa è carina che dici Dante questa ti piace? altra volta ne puoi aprire un'altra? si va bene Marti però se non mi dovresti cliccare anche tu perché anche tu sei va bene non mi sono sfruttato a parte di questo spacchettamento epico quindi dove si cliccare per me tu? eh dove si cliccare per tu io devi cliccare qui mamma vai via via di nuovo ma non ci posso credere la stessa Ari questo qui si chiama Twitch è carinissimo guarda che bei occhiali che è il ticino è questo è bello adesso tocca a te vai vai adesso tocca a te vediamo con l'altra uscita bravissimo andiamo qua adesso apri tu va vediamo cosa esce apri 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 no qui qui apri no non devi spostare però vai vai che ce la fai vai apri bravissimo oh ok vabbè è carina qui c'è Jinx è carina vai previ di nuovo dell'evento di Halloween poi Trindamer ma quante Trindamer stanno uscendo premi di nuovo questo ti piace lo suo signore con i baffi a te piace tutto e questo mostriciatolo ti piace? no no che schifezza va bene va bene apri 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 un'altra volta va bene apri tutto Dante ormai a quanto pare questo è l'unboxing di Dante cioè tu mi dite oh che carino mondo mondo mi piace questo qui mi piace questo qui lo uso Dante come no ma è carino questo mondo ecco questo guarda Dante è uscita una gemma ti piace questa gemma? sì bellina vero? beh questa non è male una gemma pazza per craftare le cosine un'altra volta un'altra volta va bene vai piano 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 questa è Diana ecco con il Yasuo mi piace Dante tu vuoi diventare uno Yasuo main? sì davvero sì è sicuro sì va bene e questo è Nidali ok beh secondo me è uscito un po' bravissimo Dante aspetta non è fida non è fida possiamo rerollare le skin per prendere quelle capito? quelle che non ci piacciono ovvero tipo tutte le possiamo rerollare e vedere allora dobbiamo fare così cambia ecco questo qui mettiamo altre 3 e Dante quando sei pronto clicca su questo cerchio qui vai allora clicca tu no 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 non con il dito amore non sullo schermo non è touch sul mouse cliccare ok vediamo quale ci esce ti piace questo ti piace questo beh anche a meno mi piace il personaggio ma la skin non è bellina vabbè non fa niente vediamo quale c'è il 3 c'è se mettiamo questa qui Trinamer Trinamer e Tuccino vai Dante quando sei pronto clicca vai tadaaa questo è carino sembra un cagnolino con i bassi ti piace? adesso vediamo quale altro c'è adesso vediamo quale altro c'è aspetta e possiamo fare altre 3 6 non credo 9 va bene altre 3 ne possiamo fare aspetta aspetta un attimino vai quando vuoi Dante voglio vai no di nuovo ok ci siamo vediamo vediamo Kindred che cosa è questa schifezza non mi piace non mi piace a te piace? no ah è stavo inizionando poverino a te che gli piace secondo me guarda come il padroneo dobbiamo pendere si si ah quello che si va bene non stavo capendo perché guarda come sta il pupù eh certo si però finiamo un attimo il video allora clicca l'ultima due volte Dante sei sicuro? Marti è un'altra volta tu? no ma questa è l'unboxing di Dante wow bella questa ancora questa la possiamo usare domani che ne dici? vabbè va bene ancora Dante è l'ultimo però e poi sono finite non ne possiamo vedere vabbè dai poi di tanto andiamo a park e andiamo a fare così ne vai Dante quando vuoi taradam ma ho caia ardente ti piace questo alberello di fuoco? no è brutta va bene va bene Dante abbiamo finito ah devi dire ciao a tutti amici amore devi dire ciao a tutti amici vabbè possiamo aprire un baule forse aspetta no non possiamo aprire nemmeno il baule Dante mi spiace questo è quanto vabbè Dante saluta poi ne faremo un altro tanto adesso dobbiamo andare al parco vabbè amici devi salutare devi dire ciao amici il video è finito dillo tu ancora non ti offre non ti può fare non cliccare a caso vabbè amici prima che Dante spacca tutto ferma la registrazione vi saluto Martina saluta ciao ciao ci vediamo presto con un prossimo video e magari un unboxing speciale ciao amici 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 ciao a tutti ciao a tutti